Guardate che meraviglia! Oggi parliamo di barche che si sollevano dall'acqua e che volano, volano sull'acqua dando emozioni e velocità mai viste prima. Salve a tutti e bentornati nel canale di progettazione nautica. Come avrete capito oggi parliamo di barche innovative che usano i foil per arrivare velocità importanti e che usano anche tecnologie innovative come i motori elettrici oppure anche la propulsione a vela per raggiungere performance interessanti. Ce ne sono tantissime di queste barche, tantissimi progetti, tantissime idee. Ne analizziamo alcune che mi sono sembrate le più interessanti. Poi se avete altri suggerimenti siamo a disposizione. Questa si chiama Candela, si chiama così, ed è una imbarcazione di quasi 8 metri. Ne esistono due modelli, la C7 e la C8, ed è una imbarcazione che assomiglia a un motoscafo, sostanzialmente, 100% elettrica, con circa 50 miglia di autonomia a 20 nodi e 30 nodi di velocità massima. Quindi, performance di tutto rispetto. Come vedete, l'imbarcazione si, diciamo così, presenta una carena che è sostanzialmente una carena abbastanza classica nella parte di prua e poi praticamente scompare nella parte di poppa. Poi c'è un foil centrale di circa un metro e venti e una propulsione elettrica di circa un metro e mezzo a poppa. Queste due parti si possono sollevare o abbassare a seconda delle esigenze. Chiaramente, in navigazione si abbassano e quando si rientra in porto o in fondali, diciamo così, bassi, entrambe possano venire sollevate per ridurre il pescaggio. Perché questa soluzione della carena metà piatta, diciamo, e metà tradizionale? Perché il costruttore dice che questa imbarcazione è capace di affrontare onde fino a un metro e venti e che per una barca che si regge sui foil è tanto e soprattutto che anche se il moto ondoso colpisce la parte di prua, la barca è in grado di superarlo, non sbatte, diciamo. Mentre la parte di poppa non serve perché qui l'acqua non ci andrà mai a... le onde non andranno mai a colpire, prima ci sono i foil. La produzione di questa imbarcazione non è la produzione di serie, intendo, non è ancora cominciata, ci girano dei prototipi, ma sembra che la produzione possa iniziare quest'anno, 2022, secondo quarto. Quindi da marzo in poi sostanzialmente. Vedremo se è vero. ecco, questo è una foto subacquea del foil centrale, che diciamo è quello principale, che come vedete è un foil, è un T-foil ed è praticamente largo come la barca. Ci sono due supporti verticali e poi un'ala che va da parte a parte. Ovviamente questo dà un lift veramente molto importante alla barca. La propulsione è invece affidata a un motore elettrico con due eliche controrotanti, quindi abbastanza efficienti, con un T-foil che anche questo ovviamente contribuisce a generare un lift e soprattutto tiene in balance la barca, la tiene orizzontale. Vedete, qui si intravede il T-foil a centro barca e questo è quello relativo al propulsore. Questa è la barca in navigazione. Come vi dicevo, questa barca ha una parte di prua con una carena abbastanza diciamo così convenzionale e poi a poppa è praticamente piatta. perché si suppone che questa parte non debba mai affrontare il moto ondoso. Io credo che questo tipo di imbarcazione sia soprattutto dedicata alle acque interne o comunque acque lagunari dove è molto importante essere silenziosi e molto importante non inquinare e non generare tanto moto ondoso. quindi credo che sia dedicato più a queste funzioni di water taxi o di brevi spostamenti da una sponda all'altra di un lago per esempio o di una laguna. Non la vedo molto bene diciamo così nella navigazione d'altura o addirittura oceanica non tanto per range ma proprio per la sua configurazione. Ecco, questa è un'altra immagine che ci fa vedere come questo tipo di imbarcazioni sollevino pochissima acqua. Questa è una barca questa barca è già ovviamente sollevata sui foil vedete e guardate quanta poca acqua solleva perché ovviamente ha pochissime superfici immerse. se questa barca stesse andando alla stessa velocità per effetto di una carena planante ovviamente avrebbe un'onda del tutto diversa sposterebbe molta più acqua e quindi avrebbe anche un consumo molto maggiore ed è per questo che è possibile fare barche elettriche di questo tipo cioè che si reggono sui foil perché una volta alzate fuori dall'acqua il consumo è veramente ridotto. Stessa cosa, stesso discorso si può fare per le barca a vela le barca a vela quando sono sui foil raggiungono queste velocità eclatanti perché appunto hanno un attrito ridottissimo. Vabbè questa è una vista generale dell'imbarcazione quindi la configurazione sostanzialmente da motoscafo da di porto sostanzialmente vedete che sia il motore che il tifoil si possono sollevare per ridurre il pescaggio se fosse necessario al loro meggio. Questa è un'immagine anche degli interni vabbè non particolarmente innovativa né ci dice niente di nuovo però insomma è un'imbarcazione che è allo studio già da diversi anni e sembra che quest'anno entrerà sul mercato. Un'altra imbarcazione abbastanza simile è questa qua che si chiama Enata Enata Foiler e la dita è scama Enata Marine che sfrutta sempre un'architettura con dei foil a centro barca e un foil a poppa integrato nella propulsione. Però i foil sono completamente diversi vedete sono a L diciamo così e quindi hanno delle geometrie radicalmente diverse rispetto ai t-foil di prima. Eccoci qua vedete qui adesso i t-foil sono in rosso quindi si vedono molto bene scusate i foil a L sono verniciati di rosso quindi si vedono molto bene sono dei foil molto importanti che escono dal baglio dell'imbarcazione in maniera importante e che quindi occupano anche molto spazio soprattutto in navigazione poi vedremo che in porto si possono piegare e rientrano a fianco dell'imbarcazione ma in navigazione occupano tanto spazio e soprattutto possono urtare corpi galleggianti o cime o ormeggi cose di questo genere. però ovviamente danno una stabilità incredibile all'imbarcazione che si appoggia su due punti che sono addirittura più larghi del baglio massimo. Vedete questa è l'imbarcazione quando è fuori dall'acqua e insomma ha una una certa maestosità al di là del fatto che adesso questo è uno scafo modellato in questa maniera che ha ragioni estetiche questa parte qui e questa parte qui invece ha delle ragioni pratiche cioè per il fatto che questo foil qui e anche ovviamente il suo simmetrico vengono ripiegati per ridurre il baglio in questa maniera qua quindi l'imbarcazione quando è ferma ha un baglio molto più ridotto cioè sostanzialmente ha il baglio della barca perché i foil diciamo così vengono ripiegati sui fianchi il design ovviamente è molto molto moderno molto aggressivo anche questa è un'imbarcazione che io sostanzialmente vedo per navigazioni interne costiere o comunque in acque piatte in acque interne o in acque protette lagunari cose di questo genere dove è molto importante non fare troppo chiasso non inquinare e non fare troppo moto ondoso come nei laghi per esempio nei laghi svizzeri per esempio c'è una normativa molto restringente in questo campo ecco vi volevo far vedere questa foto per mostrarvi come in realtà almeno da questa fotografia e da alcuni video che ho visto perché dal vero non l'ho mai vista questa barca vedete un moto ondoso un spostamento d'acqua abbastanza importante sia dai foil che non sono completamente immersi come quelli di candela che avevano due supporti e il foil era totalmente immerso quindi non sollevava tanta acqua invece qui vedete c'è una specie di diciamo così di spostamento d'acqua molto importante che addirittura sbatte sulla carena perché qua gli schizzi ovviamente vanno indietro carena che è sostanzialmente una carena classica una carena consueta con una v molto bassa vedete molto piatta però non è niente di innovativo sostanzialmente questa è la barca in navigazione è con le acque calme certo non sembra avere particolari problemi ecco questo è il dettaglio dei foil come avrete notato l'imbarcazione ha due propulsori elettrici anche questi che possono salire e scendere e questo credo sia stato fatto non solo per diciamo così suddividere la potenza ma anche e soprattutto per ragioni di stabilità perché avendo due propulsori a poppa e dei foil così larghi a centro barca la barca è più stabile e anche perché così si fornisce un passaggio in mare un'entrata in mare molto agevole fra i due propulsori vedete qui c'è anche una scaletta bagno diciamo così e adesso vediamo un mezzo veramente innovativo molto simpatico molto così quasi un giocatto che si chiama quadrofoil perché come avrete visto c'ha quattro foil di questa forma estremamente particolare molto molto interessante in cui c'è una parte che sostanzialmente fa da deriva e invece una parte che fa da lift sostanzialmente vedete questa è fatta in questa maniera perché sostanzialmente quando la barca è immersa fino a qui c'è il pieno lift perché è questa la parte che è dal lift poi a mano a mano che si sale per evitare di decollare diciamo a mano a mano che la velocità aumenta rimane in acqua sempre meno parte immersa e quindi chiaramente il lift diminuisce questo è un po' il principio di tutti i foil qui ce ne sono quattro in un mezzo che in realtà è una sorta di scuterone d'acqua perché vedete che si sta uno davanti all'altro c'è il volante gli specchietti sembra sembra proprio uno scuterone o qualcosa del genere ecco questa è l'immagine della barca in navigazione barca insomma di questo mezzo in navigazione che non saprei bene come chiamare sostanzialmente questo è uno scaffettino che potremmo definire un catamarano visto che è fatto con due prue ma è veramente fatto per navigare a poche centinaia di metri della costa se non a poche decine di metri della costa addirittura qua vedete c'ha dei buchi quindi sostanzialmente la tenuta al mare è quella di una moto d'acqua né più né meno ecco in questo in questa immagine del quadro foil si vede un po' la proporzione questa è una persona di media statura e vedete che si tratta sostanzialmente di uno scoterone a due posti probabilmente è molto efficiente visto che ha quattro idrofoil e non ne ha nessuno sulla propulsione e quindi sostanzialmente dovrebbe essere molto stabile e dovrebbe essere anche molto veloce perché questo la massa di questo oggetto è chiaramente una massa ridotta rispetto a un'imbarcazione vero e proprio un po' un giocattolone per ricchi ecco ma di barche a vela invece ci esistono barche a vela che volano sull'acqua non parlo di barche da regata parlo di barche comuni da crociera esistono barche a vela che vanno sui foil fatte per andare sui foil allora tutti voi ricorderete questo catamarano che era stato prodotto dalla gunboat e si chiama G4 un catamarano molto performante però fatto per andare in crociera il catamaro l'architettura del catamarano è stata fatta appunto con due foil principali AL più due T-foil nei timoni e sostanzialmente l'imbarcazione aveva un baricentro abbastanza basso perché la tuga era ridotta e si reggeva su due o al massimo tre foil perché quando la barca essendo un catamarano a vela quando la barca navigava a vela c'era una parte che si alzava e quindi tutta l'imbarcazione stava su si reggeva su un foil più i due di poppa integrati nei timoni che sono sostanzialmente di balance non danno un apporto incredibile questo era sostanzialmente l'assetto della barca in navigazione quindi una cosa molto aggressiva molto diciamo così anche spettacolare velocità che nessun altro catamarano si poteva sognare come potete vedere però forse qualcuno di voi ricorderà che fine ha fatto questo progetto ecco questa è una foto del catamarano in piena velocità guardate che bello e la barca è praticamente tutta fuori dall'acqua si regge solo su questo foil qua velocità elevatissime però come dicevamo la realtà ha dimostrato che ancora per il di porto non siamo pronti ad avere questo tipo di barche che stanno si reggono esclusivamente sui foil perché dico questo come qualcuno di voi si ricorderà la barca durante una regata si è ribaltata l'equipaggio pur sventando vedete questo è il momento in cui si accorgono che hanno perso il controllo dell'imbarcazione hanno mollato il gennaker o il cozzino insomma il fiocco di la villa di prua e la randa è aperta si sta per sventare però ormai la barca ha perso stabilità e poi si ribalta facendo danni importanti ovviamente perché un catamarano di queste dimensioni quando si ribalta rompe l'albero fa una serie di danni importanti e poi soprattutto ha dimostrato che non è non si può dare un oggetto di queste dimensioni o di questa fragilità nelle mani di un equipaggio diciamo così che va in vacanza un equipaggio non professionista perché è molto molto facile ribaltarsi questa è la barca a 180 gradi come vedete insomma fa paura solo vederla una barca in queste condizioni e quindi la gunboat ha deciso di non proseguire con la produzione di questa imbarcazione che infatti oggi non è più in produzione il G4 oggi non è più in produzione ecco questo è il momento in cui la barca si ribalta vedete mamma mia immagini impressionanti equipaggio appeso veramente impressionante e poi la barca si ribalta completamente discorso completamente diverso per barca a vela di dimensioni più ridotte intanto questo è un monoscafo e non è un catamarano e già è più stabile di suo diciamo così o comunque ha una stabilità diversa diversa da quella del catamarano in cui quando si perde la stabilità è difficile recuperarla vedete questa barca si chiama 69F dove F credo stia per foil appunto ed è una barca veramente strepitosa molto molto aggressiva ma progettata secondo me molto bene ci sono dei foil importantissimi AL terrazze addirittura deriva buon presso perché come se non bastasse tutta la vela che c'è T-foil nel timone con i due stick vedete Boma che a un certo punto va giù per avere un pochino più vela proprio come delle barche da regata e questa è una barca che raggiunge velocità molto importanti e chiaramente essendo una barca molto più piccola riesce a diciamo così a non fare danni anche se si perde stabilità anche se si scuffia è sostanzialmente un derivone e quindi a parte che è una barca fatta per le regate però diciamo fare danni con una barca del genere è molto più difficile guardate che foto fantastica qui ci sono tutti e tre i ragazzi dell'equipaggio sulle terrazze e vedete la barca si regge su i due foil principali soprattutto su quello sottovento ovviamente la deriva che serve ad incrementare le performance dell'imbarcazione perché chiaramente il foil se stesse solo sul foil lo scarroccio sarebbe maggiore e il timone lo vediamo qua dietro che contribuisce al balance al balance longitudinale intendo veramente un oggetto molto molto bello il fatto che i regatanti abbiano il casco la dice lunga su quante quante volte hanno rischiato di farsi male ecco questa è un'altra immagine molto bella che fa vedere come questa imbarcazione quando c'è vento sostenuto adesso qui sono anche soltanto in due insomma praticamente ha soltanto il foil sottovento in acqua il resto il foil sopravento anzi credo lo tirino su insomma non assolutamente ovviamente non lavora la barca è praticamente piatta e come tutte le barche che hanno foil così importanti non è fatta per navigare senza foil vedete che c'ha un è sostanzialmente un fondo piatto che non darebbe nessuna performance se fosse privo dei foil non navigherebbe insomma decentemente guardate che immagine spettacolare dell'equipaggio che sta cercando di gestire la la strambata tutti i due i foil sono immersi in acqua loro stanno cambiando di lato perché stanno murando il gennaker dalla parte opposta strambare su una barca con i foil mentre si è a un metro dall'acqua deve essere un'esperienza veramente interessante ripeto una barca molto tecnica molto bella secondo me progettata molto bene che ha un senso ovviamente una barca da regata ma ha un senso qui i foil hanno un senso fanno andare la barca velocissima la rendono estremamente tecnica e hanno chiaramente la connotano rispetto a tutte le altre barche di tutti gli altri schif di questa dimensione la barca in navigazione è veramente è veramente molto bella molto aggressiva e c'è da giurarci estremamente performante se andate sul sito della classe 69f potete scaricare diversi pdf io ve lo consiglio perché per esempio in questo qui in cui spiega le basi del foiling della navigazione sui foil ci sono delle pagine molto interessanti in cui viene spiegato come funziona come funzionano i foil qual è il principio fondamentale vedete qui lift a 0 gradi a 10 gradi viene spiegata la teoria dell'ala anche questo è estremamente interessante addirittura hanno messo anche la formuletta del lift che di solito è una cosa riservata ai progettisti insomma non non viene molto usata dai velisti invece qui spiegano per benino come funzionano le cose anche se in maniera molto semplice e addirittura c'è una pagina che è chiamata flight control controllo di volo bellissimo in cui viene spiegato come settare l'imbarcazione per avere una navigazione in volo diciamo così orizzontale e non appruata o appoppata perché questi foil possono essere aggiustati possono brandeggiare diciamo e hanno un angolo appunto da meno 4 a più 8 rispetto all'orizzontale quindi hanno un range di 12 gradi molto interessante in questa maniera chiaramente spostando l'angolo il lift ha un punto diverso e la barca acquista un diverso assetto veramente molto molto interessante e anche qui ovviamente si parla sempre di controllo di volo diciamo così e viene spiegato come diciamo così ci vuole un'interazione come settare la barca perché il timone e il foil principale interagiscono in maniera propria devo dire che veramente questo libricino almeno dal mio punto di vista è molto interessante ma questo è uno soltanto di pdf che è sostanzialmente dedicato ai foil ma ci sono altri che spiegano tante altre cose vi consiglio se avete interesse per questo argomento di dargli un'occhiata è sul sito della classe 69F ok questa era un po' una panoramica delle barche che usano i foil ce ne sono tantissime altre alcune con motori elettrici alcune con propulsione a vela se avete altri barche a cui siete interessati che sempre appartengono a questa categoria fatemelo sapere mi raccomando iscrivetevi al canale così possiamo andare avanti e mettete un like grazie mille a presto